Questa è Villa delle Sirene con questi pini mastodondici che sono belli sì ma guardate come hanno ridotto i marciapiedi, guardate qui infossati, una cosa incredibile, qui ci cascano molte persone anziane, ecco era il 6 luglio del 2008, guardate i marciapiedi come erano ridotti a Villa delle Sirene, ecco guardate, e beh chi non vuole sentirci, può anche non farlo, qui c'erano dei pini, guardate qui questo non è un marciapiede ma è un fossato, è un vero fossato, guardate le radici che spuntano addirittura dal marciapiede ecco questo è un documento eccezionale, guardate come era ridotto in marciapiede di Villa delle Sirene, vedete questa è la piazza che è stata rifatta, vedete vi sono già una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci palme, più uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci querce, cioè venti alberi al posto dei quattordici pini che avevano scatassato l'altra piazzetta e sono stati recuperati settanta parcheggi in questa piazza, direte voi ma era meglio darla come isola pedonale ma purtroppo per adesso non è possibile perché in questa città in questi anni non si è pensato mai a dare, a fare parcheggi multichiano, qui sono dei giochi, un'altalena, l'altra è rotta, ecco questi non sono marciapiedi ma fossati, dall'altra parte è la stessa cosa, ebbene c'è chi critica, beh criticare è lecito però poi la realtà è questa, e finalmente c'è ordine qui nei parcheggi guardate e chi abita qui, forse eccezione fatta per il mese di agosto ma vabbè un bel dire era il 6 di luglio del 2008 e vi sono anche quattro panche poi se ne aggiungeranno delle altre eeeh